No, perché come sapete sono grande appassionato delle applicazioni degli smartphone e me l'hanno consegnata una ultimamente che devo assolutamente reclamizzare Pure tu hai la febbre delle applicazioni, scarichi, fai Si chiama iCubetto di Ghiaccio, è fantastico iCubetto di Ghiaccio, come funziona? Praticamente è un'applicazione che la scarichi, io qua l'ho già scaricata quindi c'è l'iconcina del cubetto di ghiaccio Carina, carina Perché quante volte ti capita che sei da qualche parte e vorresti assaporare una bibita ghiacciata però non c'è il ghiaccio Effettivamente mica si lavava dappertutto il ghiaccio No, fai vero Magari in una zona desertica, così Allora, dopo che hai scaricato l'applicazione la lanci Ed escono i cubetti di ghiaccio? No, non escono i cubetti di ghiaccio No, infatti, sembrava strano Non è che la tecnologia mica è così spinta E quindi? No, selezioni, vedi, puoi selezionare da 1 fino a 10 cubetti di ghiaccio A seconda di quanto lo vuoi freddo Lo metti, lo inserisci nella bibita e te la ghiaccia Cioè metti il cellulare nella bibita? Chississimo! Cioè sì, diventa freddo il cellulare a seconda dei cubetti di ghiaccio E ti rinferisca senza anacquarla poi oltretutto Sì, ma il cellulare però funziona dopo? Il cellulare funziona, certo Ah, se lo proviamo Proviamo, sono curioso E servirebbe innanzitutto un bicchiere d'acqua Cioè, il nostro bicchierista dov'è? Ecco, grazie Avevamo un bicchierista noi? Sì, sì Non lo sapevo, penso Beh, me lo vado a spese Allora, puoi leggere? Certo Allora, fammi vedere, fammi vedere come funziona Servirebbe però un cellulare Beh, questo No, perché il mio Ho già scaricato No, lo so però il mio perché ha la batteria Vedi, la batteria quasi Perché serve, per caricarla serve tanta Mi serve uno con la batteria carica Scusa Io ce l'ho carica però non c'ho l'applicazione Ecco, dai Per cui Non ci vuole niente La tua password, tanto io ce l'ho Come fai a avere la mia password, scusa? E l'ho vista l'altra volta L'ho vista tu? Perché c'è la mia password? Sì È vero, tu non ce l'hai? Ma io ce l'ho però, è segreta la password È vero, è un po' meno in più Intanto non la dico in giro Eccolo qua Capito, ma pure che ce l'ho È scaricata Vedi, quante vogliamo mettere? Dimmi Tre Tre Mettiamo tre Ma siete sicuri che Sì E dai, lo inserisci così Ma basta pochissimo Secondo me già basta Vediamo un po' Se è fresca Aspetta, fai Fai sgocciolare, ecco così Tieni Assaggia Creda Sì, è un po' più fresca Però a me sta cosa del cellulare Che Ma Ma se è tutto bagnato Eh beh, si bagna acqua Non è che Ma il display è spento adesso Non si accende più E prova, accendilo E ti accende Era già acceso Che prova Era spento Ma l'aggiornamento l'hai fatto? Ma che aggiornamento? L'aggiornamento di che? Allora Ma se l'applicazione l'ho appena scaricata Dovrebbe essere già aggiornata Però è fresco adesso Mentre Ma che aggiornamento l'ho appena